Al popolo coreano, che desidera ardentemente la pace, assicuro la mia personale preghiera e la vicinanza di tutta la Chiesa. La Santa Sede accompagna, sostiene e incoraggia ogni iniziativa utile e sincera per costruire un futuro migliore all'insegna dell'incontro e dell'amicizia tra i popoli. A coloro che hanno la responsabilità politica e dirette, chiedo di avere il coraggio della speranza, facendosi artigiani di pace, mentre li esorto a proseguire con fiducia il cammino intrapreso per il bene di tutti.